Ciao a tutti, sono Gianluca, chitarrista di Cyrax. Cyrax sono una realtà formatta nel 2012, una band di Milano. Colomby Chiesi ha posto l'obiettivo di portare la nuova musica progressive metal sulla scena. Abbiamo già registrato e pubblicato tre album in studio, ma oggi sono qui per parlarvi del nostro ultimo lavoro, Metamorphosis. È un EP che abbiamo registrato ad agosto 2021 presso gli studi di Rabin Marchetti della Rabbit Productions e poi è stato successivamente mixato e masterizzato da Nick Capitini al Redwall Recording Studio. Entrambi li ringraziamo molto per il loro splendido lavoro su questo album. Un album di cinque pezzi, un EP, che abbiamo registrato live presso lo studio e in questo EP abbiamo voluto dare un nuovo spin ad alcuni vecchi brani. Infatti li abbiamo riarrangiati e risuonati totalmente in chiave acustica. All'incirca, perché la chiave acustica dei Cyrax è un po' particolare, non abbiamo semplicemente preso alcuni brani e suonati con gli instrumenti acustici, no. Abbiamo voluto riarrangiarli completamente, dandogli tutto un nuovo sapore. Perché questo alla fine è l'essenza di Cyrax. Siamo una band molto eclettica che cerca sempre dei nuovi spunti, cerca sempre di provare qualcosa di nuovo che non è stato fatto prima da noi, ma anche da altri. Infatti in questo EP, per esempio, quello che abbiamo voluto fare è dare degli spunti etnici ai nostri brani, quindi riarrangiarli e inserire diversi elementi etnici. Un esempio è il nostro brano Richard III, che potete trovare sul nostro canale YouTube Cyrax on the Web, che è un brano inizialmente power metal nella sua prima release del nostro primo disco. Ma adesso invece è un brano totalmente diverso, a cui abbiamo voluto dare un sapore spagnoleggiante. E questo è un importante piccolo punto di rottura con quello che abbiamo fatto prima, infatti è una piccola anticipazione, questo nostro nuovo approccio, a quello che verrà nel futuro dei Cyrax. Infatti abbiamo un LP in fase attualmente di proprio produzione, che sarà dedicato infatti alla musica etnica. E quindi le commistioni di stili che sempre hanno caratterizzato la musica dei Cyrax, saranno sempre ancora più presenti in questo nuovo full length. Voglio solo ringraziare con l'ultima cosa i miei compagni di avventura, Marco, Lorenzo e Jacopo, e anche coloro che mi hanno dato la possibilità di fare questo video. Potete trovarci su tutti i social, da Facebook e Instagram, cercando semplicemente Cyrax, oppure su YouTube, sul nostro canale Cyrax on the Web, e anche su tutte le principali piattaforme di streaming musicali, come Spotify per esempio, in cui troverete Metamorphosis e anche i nostri vecchi app. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!